Il calcio balilla è sempre stato sinonimo di aggregazione. Immancabile negli oratori e affascinato per intere generazioni grandi e piccini. La sfida fra omini blu e rossi da oggi, grazie al progetto regionale Scuola Sporti Disabilità, farà rima anche con inclusione. Gli alunni diversabili di alcune scuole del territorio pugliese potranno infatti impugnare le stecche e insieme ai loro compagni guidare la vittoria alla loro squadra. Squadra, appunto, come quella creata dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia e la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Grazie alla loro collaborazione, sette istituti secondari di primo e secondo grado del barese, tra cui anche la Scuola Media Silos di Vitonto e due per ogni altra provincia, hanno ottenuto in comodato d'uso gratuito 15 tavoli da gioco. La consegna sabato scorso a Masseria Lama Balice, dove si è completato l'iter di formazione degli oltre 40 iscritti al corso di abilitazione per tecnici sportivi di primo livello, che guideranno gli alunni nel progetto. Il progetto Scuola Sport e Disabilità è finanziato dalla Regione Puglia e vede molti docenti interessati anche nella parte e nella funzione di tecnici, per cui riteniamo sia veramente qualcosa di un grande valore aggiunto per la scuola, specialmente perché è fortemente inclusivo. Infatti vicino ai ragazzi con disabilità, di qualsiasi tipologia di disabilità, c'è anche un amico, un compagno di banco, tutor, che segue il suo amico durante tutto il percorso progettuale. Il talcio balilla sarà solo una delle specialità con cui i ragazzi potranno confrontarsi. Le 133 scuole aderenti al progetto hanno potuto scegliere infatti vari sport, atletica, come nel caso della nostra scuola Cassano, tennis tavolo e tanti altri. Lo sport è di tutti e per tutti, non ci deve essere disuguaglianza quando si parla di sport. Lo sport è assodato e che può essere ed è veicolo di aggregazione, veicolo di stare insieme, confrontarsi con gli altri, imparare delle regole e lo sport poi fa stare bene. Molte volte anche serve come riabilitazione perché abbiamo constatato attraverso altri progetti fatti nel Policlinico di Bari che molte persone che sono state ricoverate nelle unità spinali hanno usato anche lo sport come riabilitazione. Concorde anche Francesco Bonanno, campione della specialità e presidente nazionale della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. La federazione è una federazione giovane che però si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il territorio nazionale. Noi vogliamo essere attivi all'interno delle scuole perché comunque è la nostra missione, la missione del Comitato Italiano Paralimpico, divulgare quella che è l'attività sportiva paralimpica. Non potevamo non sposare un progetto del genere perché comunque il calcio balilla è un'attività veramente inclusiva dove non c'è limite, possono giocare tutti con la stessa dignità, lo stesso livello. La speranza di tutti è dunque continuare su questa strada, possibilità che si fa concreta grazie a un nuovo progetto della federazione che potrebbe portare oltre 100 tavoli nelle scuole di tutta Italia. All'evento di sabato scorso ha partecipato anche Francesco Romanelli, dal delegato di Sport e Salute S.P.A. i complimenti per l'impegno profuso da tutti.